che bravo franco queste qui le hai viste tu in mezzo all'erbettina è stato bravo questa qui è su in piedi bella dritta guarda che è sempre di sculenta ah queste due qui invece vedi sono coricati si vede che stanno riposando ma questa è proprio giù ma è attaccata non è pistata è attaccata ecco una e una due sono fresche sono uscite da poco queste qui 1 2 3 3